Si era covacciato a fianco di un'auto mentre la proprietaria stava facendo rifornimento di benzina ed è riuscito ad aprire la portiera dell'auto e a rubarle la borsa dal sedile per poi darsi alla fuga. È successo in mattinata in un distributore di carburante di Viale Trieste. La donna ha segnalato l'accaduto alla centrale della questura e la squadra volanti arrivata sul posto ha individuato anche grazie all'ausilio delle telecamere di videosorveglianza del distributore il responsabile che è stato denunciato per furto con destrezza. Si tratta di un 26enne algerino pregiudicato e senza fissa dimora. In considerazione di quanto accaduto il questore Paolo Sartori ha dato disposizione per avviare l'iter in parallelo con quello giudiziario finalizzato all'espulsione dal territorio nazionale e ha disposto di procedere alla notifica del foglio di via obbligatorio.